Insomma, fa vedere che prima c'era il manifesto di Sabo. Il cappello? Eeeh! Vi voglio un attimo raccontare un po' di cose. Ovvero, proprio perché seriamente mi sembrava giusto dare a tutti il contenuto sull'Evection che gli amanti di One Piece, i detrattori di One Piece, gli amanti delle serie TV e le persone curiose si meritavano, era doveroso soffermarci un attimo questo momento e quindi fare sul serio un contenuto dal mio punto di vista quadrato a 360 gradi in modo da approfondire per bene tutta la questione di questo live action di Netflix per poi andare addentro a questo trailer che abbiamo visto stanotte, almeno io l'ho visto stanotte perché sono una persona orribile. Stavo per andare a dormire. A un certo punto vado su Instagram e vedo il countdown. Mancavano due ore e mezza e ho detto vabbè, pace. Aspettiamo tutti insieme, insomma, l'avvento di questo trailer e abbiamo fatto bene perché noi che l'abbiamo visto questa notte possiamo dire, soprattutto, e qui mi rendo conto che prevale la parte che ama One Piece, ci è piaciuto. Ecco, ci è piaciuto, però, prima di tutto, perché non ho voluto fare questo contenuto direttamente su YouTube ma prima qui su Twitch? Perché al termine di questo approfondimento, che chiaramente mi prenderà un po' di tempo, posso stare qui con voi e quindi avere anche una chiacchierata bella, tranquilla, felice, contenta, proprio un dialogo onesto con la chat e poi, chiaramente, per gli stronzi che, perché siete stronzi, non siete venuti su YouTube, poi magari, se è il caso, la ripropongo anche su YouTube. Però, io vorrei farvi sottolineare una cosa importantissima, veramente fondamentale, ovvero, proprio l'importanza dell'evento, di questo live action in sé. Perché, fateci caso, è vero che ci stiamo trascinando questa storia da più di sette anni, da più di sette anni, ed è vero che abbiamo avuto quel teaser trailer di cui riparleremo tra poco il mese scorso, nel corso, ecco, di un evento molto importante per Netflix, ovvero il To Doom, che è fondamentalmente il manifesto programmatico dell'anno a venire. Però, chi ieri sera ha visto, ecco, il One Piece Day, che è questa giornata di festeggiamenti annuale, che viene fatta in Giappone per celebrare, ecco, la prima, in questo caso, la prima volta in cui One Piece è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump nel lontano 1997, il trailer dell'evaction di One Piece è stato il primissimo contributo importantissimo di peso della giornata. Tant'è vero che è stato aperto, chiaramente, dai soliti doppiatori che si sono messi lì a cazzeggiare, dopodiché addirittura hanno mandato un countdown importantissimo, che ha fatto un po' esplodere tanto Netflix Giappone, tanto Netflix internazionale, quanto Netflix italiano. Questo va detto, insomma, una parte consistente di noi questa notte ci stava. Ma perché? Perché hanno mandato questo trailer neanche al Tudum, quindi neanche a Netflix, ma nel corso del One Piece Day? Perché la questione è veramente importantissima, è fondamentale, ragazzi, qua bisogna parlarne. L'industria, l'industria del fumetto giapponese, l'industria dell'animazione giapponese, l'industria telefilmica, Netflix stessa, ci stanno puntando veramente tantissimo, lo abbiamo detto. È un prodotto, questo live action di One Piece, costosissimo. Uno dei prodotti Netflix più costosi di sempre e, proprio tenendo conto del fatto che abbiamo a che fare, e anche di questo l'abbiamo parlato, con una licenza che è enorme, perché One Piece, ecco, non sarà i Pokémon, non sarà ormai il Marvel Cinematic Universe, che ha una portata molto interessante, però, a conti fatti, One Piece, oggi come oggi, è una licenza enorme internazionale, il cui riverbero è a livello mondiale, tant'è vero che lo stesso One Piece Day di ieri sera era diviso in due, c'era la parte per i giapponesi e poi c'era la parte con gli speaker inglesi che ti raccontavano che cosa stava succedendo. Tutti quanti si stanno rendendo conto, e si sono resi conto, che questa follia di fare questo live action, che è una follia, è una follia, è comunque un tipo di operazione che non si può sbagliare, perché obiettivamente ne va della licenza di prodotti futuri. Immaginate sbagliare One Piece, che è la cosa più importante per il mercato dell'animazione e del fumetto giapponese, i giapponesi, se vedono che questa roba qui è stata sbagliata, non danno più licenze a nessuno. Questo è il punto. E se ne sono resi conto, se ne sono resi conto. E ieri sera, e lo voglio leggere insieme a voi, durante i One Piece Day, Leichiro Sensei, come fa sempre, ha mandato la letterina, la letterina annuale di ringraziamento ai fan, la letterina annuale dove racconta cose, e naturalmente, naturalmente, questa letterina era sul live action. E la voglio leggere con voi. Leggiamola un attimo insieme. Ed eccoci con il live action di One Piece. Ci sono un po' di immagini, c'è barba bianca, c'è gimme. Il teaser e il trailer sono stati pubblicati, e il lancio dello show è previsto per il 31 agosto, mese prossimo. Ve lo dico, non c'è stato alcun compromesso per questa serie TV. Le celebrazioni sono già cominciate, ed è divertente vedere la reazione delle persone quando vengono rilasciate le varie informazioni. In Giappone sono rimasti tutti basiti F4, cioè a chi è piaciuto quel teaser, a chi non è piaciuto. Così come a livello internazionale, c'è chi gli ha dato immediatamente contro, c'è chi si è scagliato senza aspettare neanche di capire se effettivamente quel teaser era davvero un qualcosa di montato un anno fa, come alla luce di questo trailer sembra, e tra poco ne parleremo quando andiamo un po' più addentro, però effettivamente il buzz, a prescindere o meno, sul serio in questo caso, purché se ne parli, è stato talmente gigantesco che effettivamente quel teaser di un mese fa di One Piece è stata una delle cose più viste in assoluto in tutti i Netflix di tutto il mondo. Il fatto che l'idea di portare One Piece in un live action sia stata concepita ben sette anni fa è assurdo, dice Oda. Come si può adattare alla realtà un mondo del genere? C'è tanto lavoro da fare e soprattutto c'è tanta gente che caga al cazzo, ma anche di questo ne parleremo. Gli sforzi degli attori, la ricostruzione di edifici e costumi, il presentare le situazioni in un modo che può essere fatto, solo nell'live action, i dialoghi e l'impegno di tante persone che hanno lavorato insieme, è stato già lì per sé qualcosa di bellissimo. Immaginate effettivamente, a prescindere da tutto, a lavorare a un prodotto del genere, la pressione derivante dal lavorare a un prodotto del genere. Magari è scontato dire una cosa del genere, provateci voi. Dopo il lancio sono certo che alcune persone punteranno il dito su quel personaggio che manca o su quella scena che è stata omessa o magari su qualcosa che è un po' differente dal manga. Oda qui mette un po' le mani avanti, ne parleremo anche di questo tra poco. Ma sono sicuro che queste critiche arriveranno da chi prova amore per One Piece, quindi mi godrò anche commenti del genere. La storia durerà per otto episodi e ci porterà voi sapete dove. Esatto, come dice Antonio, ha previsto anche le critiche della gente e io immagino anche quali. Ne parliamo proprio tra poco. Anche dopo che le riprese erano terminate, ci sono state tante scene che la produzione ha accettato di rigirare perché non ero abbastanza contento di come fossero venute. È stato molto interessante, secondo me, mi fermo un attimo, vedere proprio le critiche, i commenti estremamente critici al teaser del mese scorso per il semplice motivo che effettivamente molti lamentavano una mancanza di qualità, una sorta di sciatteria alle volte nella messa in scena, nei vestiti, negli attori. Dopodiché, e si è visto con questo trailer, ma in realtà era già possibile vederlo attraverso le fotografie di scena definitive, si vede come determinate scene di quel teaser all'apparenza erano una prova generale oppure erano cose che poi sono state buttate per essere rigirate. E il fatto che Oda qui si stia mettendo in prima persona dicendo, io gli ho detto di rifarli, secondo me può essere interessante, anche come case study da questo punto di vista. D'altro canto, c'erano alcune battute del copione che non pensavo si adattassero bene al personaggio di Rufy, ma quando le ho viste finalmente ho esclamato funzionano quando è Inaki a pronunciarle come Rufy. Ha lavorato davvero la grande? Inaki è l'attore che fa Rufy. C'erano tante cose a cui bisognava fare attenzione per far sì che il tutto non sembrasse troppo innaturale. La produzione e tutto il cast si avvicinano all'uscita della serie e sappiate che sono tutti grandi fan di One Piece. E di questo l'abbiamo raccontato. Tanto gli attori, quanto una parte importante degli sceneggiatori, quanto lo showrunner, sono persone che One Piece l'hanno studiato per bene. Persone che One Piece lo conoscevano molto prima di metterci sì al lavoro. Io ribadisco questa cosa perché dal mio punto di vista è veramente interessante. Basta solo andare a vedere l'Instagram di Emily Rudd, l'attrice che fa Nami, che aveva le immagini su Instagram, e ce l'ha ancora, di lei di dieci anni fa che si vestiva da Nami, le immagini di Nami, le parti di Nami di One Piece perché era il suo personaggio preferito. Lei sul serio ha raggiunto il suo One Piece interpretando il personaggio che più amava e adorava all'interno del mondo dei fumetti e dei cartoni animati. Quindi il fatto che questo live action tutto sommato lo abbiano fatto dei fan da un lato e di questo ne parleremo di nuovo tra poco da un lato può essere magari un sinonimo di qualità dall'altro potrebbe arrivare invece ad affossarlo per il troppo fan service e di questo ne voglio parlare. Più conoscete One Piece più vi renderete conto dell'amore che loro hanno messo in questo lavoro. A giugno abbiamo deciso che era arrivato il momento di andare avanti e lanciare lo show anche perché se lo tenevano caro caro da un bel po' di tempo erano indecisi eccetera. Il mio editor che ha lavorato duramente alla storia e insomma a questo serial tv ha pianto e mi ha detto è stato un lungo viaggio. lol. Ovviamente il duro lavoro non è garanzia di successo e il fatto che lo dica l'autore di più grande successo del mondo dei fumetti giapponesi la dice lunga. Ormai io sono innamorato del team di produzione e del cast e non vedo l'ora che possano godersi i complimenti del mondo intero che meritano per il lavoro svolto. È un papiro sì sì sì. Ma Odale gli fa sempre queste cose quindi lui parla una volta ogni tre mesi una volta ogni tre mesi si sfoga poi ritorna a scrivere a fare One Piece e nel caso in cui alcuni avranno da ridire io sarò accanto a loro a sopportare le loro bestemmie bestemmie lo metto io qualsiasi siano le vostre sensazioni del momento mancano ancora un mese quindi per favore dice calmatevi bevete un po' di tè nell'attesa ehi ciro Oda è interessante secondo me come tutto sommato e questa è la mia sensazione l'autore di One Piece da un lato abbia messo un po' di mani avanti dall'altro è come se stesse dicendo perché questa è la mia sensazione e ditemi magari qui in chat se sbaglio o meno la sensazione è come se lui stesse dicendo nel caso in cui dovesse andare andare male è tutta colpa mia quindi mi prendo io tutte le responsabilità se dovete parlarne male venite da me e insomma è pace vi posso assicurare che hanno lavorato tutti benissimo vi posso assicurare che il cuore il lavoro la passione è stata messa speriamo che le cose vadano bene però è un po' mettere le mani avanti perché e qui voglio entrare nel merito di un discorso che tutti fanno solo in maniera approssimativa e che forse ancora nessuno vi ha spiegato per bene o ha cercato di raccontarvi questa cosa per bene io lo dico da sempre One Piece è e rimane una baracconata lo ripeto One Piece è e rimane una baracconata il protagonista è uno che è fatto di gomma e si allunga ci so gente che so degli uomini pesce ci so personaggi che so alti sei metri le proporzioni dei mostri che hanno dieci chilometri ci so i clown che si spara flashano a destra e a sinistra appena lo apri ti rendi conto che è di suo non solo un bel fumetto non solo una grande opera di animazione ma che è soprattutto è un circo è una baracconata è coloratissima è una cosa fuori da ogni logica e che ha bisogna ha bisogna seriamente di un'enorme dose di sospensione dell'incredulità per leggerlo e accettare quello che tu implicitamente da iperassodato succede all'interno del fumetto questo va detto a prescindere dal fatto che è un fumetto di fantasia che è un fantasy che ha un afflato fantastico ci vuole sul serio ci devi proprio credere e questo già all'interno del manga e del cartone animato per cui adattare questa roba qui in un live action è estremamente difficile vi faccio un esempio spesso e volentieri è passato ormai questa leggenda metropolitana riguardante il fatto che è impossibile fare live action tratti dai manga o tratti dagli anime per via del fatto che sono dei medium sono dei media molto estemporanei per via del fatto che ecco molti di loro soprattutto se parliamo dei manga di azione giocano tantissimo su questa sospensione dell'incredulità per cui ecco l'effetto cringe l'effetto grottesco l'effetto del non riuscire a credere quello che vedi trasposto nel mondo reale è palpabile non so se su Netflix Italia ci sia o meno il live action di Kingdom sapete Kingdom è uno dei miei grandi pallini ma su Netflix UK c'è io vi esorto qualora voi non abbiate anche mai letto Kingdom di buttare un occhio all'ave action di Kingdom che è un gran bel prodotto molto ben fatto vi posso assicurare che ecco questo effetto cringe non c'è quasi non c'è quasi le battaglie sono molto ben sviluppate i costumi sono meravigliosi la sceneggiatura è ottima perché ecco parlando di battaglie della conquista della Cina dell'unificazione della Cina fondamentalmente tu trasponi cinematograficamente un prodotto che funziona però detto quasi perché anche all'interno di Kingdom ci sono all'interno del fumetto e all'interno del cartone animato ci sono degli elementi straordinari ci sono generali alti due metri e mezzo giganteschi ci sono dei colossi che sovrastano tutte le armi e le armature e quando anche all'interno del live action c'è la riproposizione di questi generali e c'è è cringe proprio perché volendo essere estremamente fedeli all'idea originale del voler trasporre su un altro medium quello che tu hai visto in maniera animato o su carta chiaramente l'effetto straniante ce l'ha e perciò quando tu vedi il generale Uki che all'interno del manga è un gigante e lo vedi all'interno dell'ave action che è un po' tracagnotto ridi è cringe è cringe a proposito di One Piece voglio tornare nello specifico poi in realtà ci sono tanti gran bel live action la gente non ne parla mai Kenshin è un gran bel live action 20th Century Boys ha una grande trasposizione in live action Battle Royale ha un film della Madonna ce ne sono tanti che funzionano molto molto bene molto Old Boy Old Boy Old Boy ce ne sono veramente tanti tantissimi solo che ormai Bleach è molto ben fatto solo che ormai è passata questa come dire questa leggenda metropolitana per cui i live action sono sempre fatti male ma di nuovo è una fallaccia logica perché e questo è il punto su cui bisogna ragionare per bene e che nessuno lo fa mai ormai non lo si fa più se si vuole pretendere da un live action il realismo grafico e cinematografico un qualcosa che dal punto di vista del pathos della narrazione funziona per dare allo spettatore quelle sensazioni di star vedendo un dramma che rispetta pedissequamente la grammatica del cinema non si può avere la fedeltà presente all'interno di un manga o di un anime e soprattutto con one piece non si può minimamente avere la fedeltà del narrato di oda lo sapete io ero uno di quelli perché io non mi rimangio le mie cose ero uno di quelli che diceva mi piacerebbe vedere una trasposizione di one piece anche solo lontanamente adattata purché lo spirito fosse presente togli i frutti del diavolo togli parecchie cose fai un qualcosa ecco di realistico purché i personaggi fondamentalmente rimangano fedeli allo spirito delle avventure o fai un live action così oppure fai la baracconata non te ne esci o l'una o l'altra non funziona una cosa in mezzo non c'è un punto d'incontro tra il realismo grafico e cinematografico e la fedeltà di un'opera a fumetti non esiste così come non esiste all'interno dei cinecomics non esiste tant'è vero che se prendete il batman di nolan non ha minimamente nulla a che spartire col batman fumettistico per cui il punto è se vuoi avere la fedeltà del manga non puoi pretendere il realismo quindi vedere le persone che si lamentano che faccio un esempio poi ne parliamo Arlong ha il naso a sega ed è ridicolo oppure le persone che si lamentano che Usopp non ha il naso lungo non funziona questa cosa perché o lo fai come è Arlong o non lo fai punto questo è la sensazione di grottesco e di cringe nasce da qui viene da qui perché nel momento in cui tu vedi un uomo pesce per la prima volta trasposto non avendolo mai visto tranne che su carta o in animazione ci rimani abbastanza perplesso basito inquietato per me funziona e ne parliamo e questo se teniamo conto soprattutto del fatto che One Piece per l'appunto ragazzi questo è non è mai stato realistico cioè arrivati a questo punto vedendo il teaser e il trailer pretendere il realismo di un adattamento che vuole essere quanto più fedele possibile non può essere realistico deve essere una baracconata punto deve essere colorato deve essere pazzo deve essere tutto scombinato deve darti l'idea di un mondo fiabesco e fatato la direzione a me personalmente sembra chiara era già chiara dal teaser blastato bastonato a ragione o contro non è questo un problema sul trailer sul trailer sul trailer l'unica cosa vera che si può dire e sfido chiunque a dire il contrario è che ha fatto l'unica cosa che doveva fare finalmente far venire voglia a tutti di guardare il live action di One Piece punto almeno la prima puntata quanto meno perché il montaggio c'è le musiche funzionano il ritmo è in c'è la musica funziona loro ci sono e soprattutto per la prima volta ti si riesce a mostrare un mondo di One Piece molto simile a quello che vedi all'interno del manga o dell'anime riuscendo anche a ridarti dei feels molto 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 potenti e adesso poi lo vediamo però prima di nuovo di immergerci prima di immergerci nell'analisi totale tombale di questo trailer io vorrei affrontare il nucleo portante dell'ave action parliamone una volta per tutti perché la vera domanda che si deve fare che ci dobbiamo porre a chi interessa questo live action cioè per chi è stato fatto questo live action la risposta a questa domanda noi l'abbiamo Oda è stato chiaro Oda ha detto che questo live action è l'ultimo tentativo di far arrivare One Piece a tutti coloro che One Piece non lo conoscono neanche per sbaglio c'è un però di questo modo di pensare giustissimo ovvero che oggi come oggi adesso in questo preciso momento istante sul web su youtube sulla carta stampata agenzie stampa eccetera chi ne parla sono solo gli addetti ai lavori sono solo chi conosce bene il manga chi conosce bene l'anime chi conosce il mondo delle serie tv e i fan quindi in questo momento istante nessuno di quelli che teoricamente dovrebbero essere il target a cui questo prodotto si rivolge ne sta minimamente parlando perché loro non lo conoscono One Piece cioè noi abbiamo un live action che dovrebbe essere per tutti coloro che non conoscono One Piece ma che invece ad oggi viene pian piano cominciato ecco a introdurre raccontato da chi One Piece invece lo conosce molto bene e allora la domanda qua diventa come fare ad attirare l'attenzione di chi One Piece non lo conosce neanche per sbaglio quindi come fare a fare in modo che One Piece arrivi a chi teoricamente è destinato cioè a chi One Piece non lo conosce e quindi suscitare l'attenzione la curiosità la voglia di fartelo vedere anche se proprio non ne sai nulla diciamo che forse questo è compito nostro dico nostro in generale perché l'unico modo secondo me l'unica calamita che farà in modo che le persone che non conoscono One Piece cominceranno a vederlo è quando ecco i fan gli amanti del manga gli amanti dell'anime gli addetti ai lavori lo vedranno in maniera talmente ossessiva che poi quando tu vai su Netflix lo sapete lì c'è la top 10 dei prodotti più visti del momento è uno spettatore casuale se si vede One Piece nella prima nella seconda nella terza posizione per sfizio ci clicca fammi capire fammi vedere se questa cosa funziona se mi piace che cos'è questa roba qui se magari gli piace nonostante la baracconata è possibile che magari chi lo sa si possa avvicinare al mondo dell'animazione o addirittura al mondo del fumetto anche perché non lo sappiamo in Giappone è ciò su cui si basa l'intera industria di quel tipo di intrattenimento quindi non il media mix è il manga che supporta l'anime che supporta i videogiochi che supporta l'anime che supporta il manga in un circolo virtuoso solo così solo così lo riesci magari a spammare un po' in giro facendoti venire la curiosità nel momento in cui c'è probabilmente un traffico talmente elevato da farlo schizzare in prima posizione succederà questa cosa chi lo sa non lo so però sarà veramente molto 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 interessante soprattutto perché e qui chiudo e andiamo all'analisi totale tombale che voglio presentarvi oggi Oda da questo punto di vista è stato veramente chiaro e ha ragione chi chi ci ha lavorato e l'abbiamo detto prima One Piece lo conosce molto bene ha in mano un corpus narrativo talmente vasto che già solo sin dall'inizio ha capito che bisogna raccontare il mondo proprio per incuriosire quelli che One Piece non lo conoscono neanche per sbaglio gli attori dal mio punto di vista ci credono tantissimo poi vedremo ecco il punto diventa questo quando uscirà la serie valuteremo vedremo vedremo la prima puntata se ci piacerà andremo avanti con la seconda la terza la quarta la quinta la sesta la settima e l'ottava e solo una volta visto il prodotto potremmo dire definitivamente sì hanno fatto un gran bel lavoro no il lavoro è veramente terrificante sì è un gran bel prodotto no fa schifo io non mi rimangio nulla di quello che ho detto io voglio aspettare di vedere questa roba qui voglio aspettare di vederla però e questo è il punto della giornata il trailer ha fatto in modo che la voglia di vederlo c'è la voglia di vederlo c'è e voglio analizzare con voi per bene questo trailer facendovi vedere nel dettaglio tutte le cose che gli sceneggiatori hanno fatto hanno quanto meno si mostra e mostrarvi anche non l'ho fatto con tutte le scene ma tutte le scene potevano essere sovrapposte una a uno al manga tutte quasi tutte nessuna esclusa ho estrapolato solo alcune cose per farvi vedere il lavoro che comunque hanno fatto è una cosa che penso oggi non abbia fatto ancora nessuno quindi davvero vi volevo dare il contenuto che meritate non ci andiamo a vedere il trailer a lunghezza normale che tanto l'avete già visto tutti e io ho preparato per voi per noi un trailer in slow motion da valutare sul serio frame by frame in modo proprio da soffermarci sulle cose interessanti allora io lo metto un attimo indietro e capire insieme capiamo? andiamo già tutta questa scena fa capire quanto gli animatori gli animatori gli sceneggiatori e chi ha scritto questa roba qui conosca per bene il medium perché e mi fermo subito e qui dovrei già farvi vedere una cosa ma magari ve la faccio vedere alla fine tutta la parte che vediamo in questo trailer di Gold Roger che va al patibolo non è presa dal manga bensì dal cartone animato e neanche dall'episodio speciale che ripercorre la storia del capitolo zero bensì dal punto di vista del piccolo smoker all'interno dell'animazione che guarda con occhi spalancati Gold Roger che attraversa tutta la strada di Log Town che lo accompagna al patibolo e dopo ve lo faccio vedere perché se no devo chiudere questo aprire un'altra schermata già solo queste immagini sono sovrapponibili frame by frame a quello che gli animatori nel 1999 hanno fatto ai tempi della proposizione di questa roba qui quindi tanta 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 roba andiamo avanti c'è Gold Roger che entra chiaramente ecco questa è molto interessante c'è questo Gold Roger che entra in questa sorta di elevator di questa sorta di ascensore cosa che all'interno del manga non c'era ma anche all'interno del cartone animato c'era una scalinata che portava lì al patibolo e già una cosa che dal mio punto di vista è molto interessante è vedere non solo il fatto che abbiamo di fronte una riproposizione della Firenze ecco di Santa Maria del Fiore proprio con la cattedrale la cupola del Brunelleschi lì lì dietro ma dal mio punto di vista la qualità dello sfondo in CGI è veramente notevole perché non si vede quella poveracciata che di solito mi sembra ormai di vedere ultimamente nei film Marvel dove si vede proprio che c'è uno schermo verde e ci appioppano la fotografia cioè mi sembra che già il lavoro proprio dal punto di vista degli effetti speciali sia stato fatto in maniera molto egregia oltre al fatto che e andiamo avanti giusto di qualche frame qui abbiamo immediatamente subito sulla destra lo vedete il primissimo easter egg della giornata è proprio lui è Dragon qui chiaramente il flashback con Sabo qui invece è l'immagine presa dal cartone animato qui il controcampo potremmo fare dal cartone animato di Dragon che è lì presente a Logtown l'ho chiuso eccolo qui ma qui abbiamo il primo grande easter egg di questo trailer Dragon che è lì assistere Gold Roger che sta per morire che è una cosa molto bella molto interessante allorché la domanda ti sorge spontanea in virtù anche di quello che hanno fatto e si vede alla fine di questo trailer sapendo noi col senno di poi che qui a Logtown non solo c'era Dragon ma c'erano anche Crocodile Doflamingo Moria chissà se hanno preso qualche attore ci hanno messo un occhialino ci hanno messo magari un pellicciotto per farti capire che si sono loro chi lo sa lo scopriremo il 31 di agosto andiamo avanti anche qui guardate che è bello guardate che è bello l'attenzione al dettaglio questa la vedi se vedi veramente tutto in slow motion eccolo qua qua abbiamo proprio il super Jolly Roger di Gold Roger messo lì in primo piano per farti capire quanto effettivamente c'è dell'amore nei confronti di questo prodotto dozzinale grottesco cringe tutto quello che volete però l'amore secondo me c'è proseguiamo e qui arriva lo spadone chiaramente che sta per ucciderlo un Gold Roger da mio punto di vista non so voi cosa ne pensate però veramente molto 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 perspicace un Gold Roger che appena lo guardi e questa è stata insomma la mia impressione ti dà proprio l'idea di avere a che fare con un pirata prima di tutto con un pirata prima di tutto e soprattutto con uno che ne ha viste veramente tante il vestiario il modo qui c'è franchino di 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 fantozzi naturalmente quello lì che alzava le mani e diceva ovunque c'è tutta la folla in festa che stanno insomma cercando di capire se Gold Roger gli racconterà qualcosa e abbiamo una nuova visione della going merry anche la going merry per quanto le persone abbiano chiaramente cacato il cazzo sul fatto che la going merry eccola qua la going merry all'interno dell'evaction non abbia la stessa polena che ha nel manga in realtà da questo punto di vista è veramente funzionale perché è uguale è identica polena a parte non gli puoi dire veramente nulla polena a parte è proprio la going merry a cui tutti quanti noi siamo sempre stati affezionati e vedendo anche questa immagine vedendo anche questa immagine mi sembra di avere a che fare già ecco di nuovo con un lavoro un po' più certosino rispetto a quello che si vedeva nel corso del del teaser ci sono ancora delle scene tra poco ne parliamo che mi danno l'effetto piscina però qui già ci siamo un po' di più andiamo avanti vediamo questa è un'immagine che abbiamo già visto rufi che insomma ha a che fare con il barati ecco qui entriamo in una parte abbastanza non vorrei dire sconosciuta perché e dopo si vede c'è uno zoro che è calato all'interno di un pozzo che guarda la luna che guarda la luna una delle cose che si sapeva è che probabilmente noi vedremo all'interno dell'evaction zoro prima di essere catturato dal da 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 ermeppo e da e da suo padre morganz e si ventilava che era poi l'immagine che si vedeva nel teaser quello scontro di lui col tipo rosso fosse uno della baroque works quindi qui potrebbe essere interessante ma questa è una mia illazione questa è una mia illazione potrebbe essere interessante vedere il momento in cui la baroque works va da zoro per cercare di cooptarlo all'interno della loro organizzazione di di cacciatori di taglie e zoro fondamentalmente rifiuta ma questo non lo possiamo sapere lo scopriremo solo vivendo qui abbiamo una navi che è in piena navigazione stava stava guardando lì insomma la bussola abbiamo il nostro mitico usop qui probabilmente siamo ad arlong park sanji secondo me forse è quello con la faccia più da schiaffi più meravigliosa ecco lui c'ha proprio il physique du roll non che gli altri non lo abbiano dal mio punto di vista il casting di questo live action secondo me è perfetto però lui almeno da questo teaser e dal trailer è proprio perfetto lo vedi anche se e qui bisogna essere onesti anche se ci vedi l'attaccatura della parrucca non so se ci fate caso qui diciamo che chi ha fatto chi ha fatto il trucco non è stato proprio il massimo ecco bisogna essere intellettualmente onesti qua si vede proprio l'attaccatura però lo vedi e almeno io non faccio fatica a credere che sia sanji così come non faccio fatica a credere che gli altri siano rufi zoro usop gold roger e tutti gli altri però lui in questi trailer oltre a rufi va detto e anche a nami vabbè a tutti però lui è quello che mi ha dato proprio le vibes più forti le vibes più forti ah qui arriviamo a una cosa che ho adorato e mi voglio fermare vedete quando prima dicevo che chi ha lavorato questo live action ha una conoscenza puntuale di one piece ti fa capire che vuole utilizzare tutto il materiale del corpus narrativo di oda quindi vedere garp in questo momento vedete qui c'è la capuzella di gold roger non so se la riuscite a vedere sta qua che è lì a fianco al suo amico rivale gold roger secondo me e questo è un secondo me gigantesco perché poi lo vedremo il mese prossimo forse da quel quid emozionale in più rispetto alla solita tavola scarna che ormai conosciamo tutti bene tavola scarna che chiaramente dice tutto e che anche all'interno di questo live action in realtà è stata riproposta adesso lo vedremo tra l'altro qui secondo me e questa è anche una cosa che ho visto essere criticata tantissimo i vestiti il vestiario in realtà anche qui quello che a me piace tantissimo in questo momento sono i dettagli io non posso zoomare o forse sì però se zoom beh sì ve lo faccio vedere ve lo metto più grande guardate qui guardate questo ciondolino di garp che contiene il simbolo della marina non so se riuscite a vedere vedete guardate qua che bello guardate anche qui le mostrine che hanno il simbolo della marina fa capire che in questo in realtà chi ci ha lavorato i compiti a casa li ha fatti li ha fatti veramente molto molto bene molto molto bene e anche in questo caso e almeno questa è la mia sensazione poi siete liberi di dire di no mi dà l'impressione in realtà di avere un ottimo rendering cioè non mi sembra dietro di avere a che fare con un green screen o un blue screen mi sembra abbastanza ben renderizzato andiamo avanti eccolo qua guardate che bello qui c'è la gente che si incazza allora io qui ho una teoria iniziamo con le teorie salive action ma è una teoria stupida quanto sarebbe bello se questo qui fosse Doflamingo questo qua se lui fosse Doflamingo sarebbe bellissimo però non c'ha gli occhialini però non c'ha gli occhialini si iniziamo iniziamo con le teorie dal trailer così a caso così a caso qua si picchiano ah qui c'è questa pirata che corre ora io tutto il casting non me lo ricordo però se lei fosse Belmer sarebbe tantissima roba in modo da averla già lì e in modo nel modo che nel momento in cui magari ti riproponessero ti riproponessero un un flashback un flashback insomma tu ce l'avresti già qui però dovremmo andare a vedere un attimo il casting e ammetto che questo non sono andato a vederlo andiamo avanti corrono così coliccoliccolà l'angola delle relazioni ah guardate quanto è bello dai guardate che che meraviglia guardate che meraviglia si Belmer è un marine ma anche lei è un marine ragazzi ma tu metti indietro lei stacco i marine cioè lei passa in mezzo ai marine beh vedremo insomma però volevo sofferm farvi soffermare qui guarda scusatemi eh perdonatemi è proprio questa roba qui ecco è proprio è proprio lei è proprio lei è proprio lei è esattamente lei e soprattutto e questo magari di nuovo può essere una lettura fatta con il senno di poi nel vedere questa immagine e qui secondo me siamo proprio nel momento in cui Gold Roger ha già detto ricchezza fama potere i miei tesori se volete cercate li ho lasciato tutti in un certo posto e che ci sono i due boia che lo stanno per trapassare da parte a parte e qui dà proprio l'impressione di un personaggio che sa tutto ha conosciuto tutto e si rende conto la volontà della D di cui parlavamo se sei consapevole di essere un D hai una potenza tale per cui le tue azioni sono in grado di sconvolgere il mondo guardate questa espressione non vi sembra l'espressione di uno che l'ha appena fatta grossa consapevole di averla fatta grossa è un capolavoro oltre al fatto di essere proprio la versione uno a uno di questa vignetta ovvero l'attore che fa Gold Roger da questo punto di vista non è nient'altro che uno che è andato a vedere non è un viaggio magnifico magno basta leggere il manga evidentemente tu non lo leggi questo è il punto andiamo avanti e qui si continua e qui c'è Rufy che chiaramente è partito con la sua barchettina e qui sta parlando con il gabbiano vero sottoposto vero sottoposto vero sottoposto di Morgan Morgans anzi e qui fondamentalmente ci saranno tantissime lettere nei confronti del WWF per aver trattato male gli animali perché Rufy in questo momento sta trattando malissimo un animale e quindi mi immagino già esattamente come con Spielberg persone che si triggereranno col gabbiano cacciato via che è anche molto bello questo gabbiano gigantesco potentissimo Rufy che ci rimane male si guarda intorno Inaki Godoya comunque è nato per fare Rufy assolutamente dice Mr. Goonpack è in CGI ma davvero ma che cazzo dici è in CGI no ma sul serio è in CGI ma davvero ma quindi mi sta dicendo che quando hanno mandato le lettere a Spielberg per il triceratopo i triceratopi non esistevano si erano si erano estinti ma veramente andiamo avanti io penso di fare battute la gente mi prende pure seriamente va bene andiamo avanti su Netflix su Netflix pensaci bevo un attimo questa era una cosa che avevamo visto nel teaser se vi ricordate ovvero Rufy dentro il barile e poi c'era la dissoluzione con Rufy sempre dentro al barile che si trova in mezzo a questa battaglia di Alvida contro pirati randomici all'interno del manga non è minimamente così all'interno dell'anime non è minimamente così però ecco secondo me questo potrebbe essere molto interessante per dare molto più padose e drammaticità a una scena che altrimenti magari poteva essere solamente comica o meno qua si sparano ecco questa per esempio è una di quelle scene che mi dà il sentore della piscina però è la mia impressione magari la parte definitiva sarà resa ancora meglio oppure magari rimarrà questa non lo sappiamo però ecco questa scena in particolare mi dà proprio l'idea insomma stanno dentro una piscina hanno messo un green screen e come va va rufi rufi parla con i suoi qui ci sono le cannonate di alvida e qui c'è una cosa che ho apprezzato tantissimo guardate bene questa questa palla di cannone ecco ancora una volta il dettaglio il dettaglio della palla di cannone brandizzata con il cuore di alvida perché così quando ti arriva insomma la palla di cannone sai che è la sua ed è rosa chiaramente quindi queste sono piccolezze cazzatelle ecco quando prima parlavo di fanservice questo è puro fanservice fanservice per noi che amiamo one piece e che magari lo spettatore ma neanche casuale se vedevi questa roba a velocità normale neanche te ne accorgevi lo spettatore non se ne accorge però è nei dettagli che si cela il demonio alle volte quindi tanta tanta roba qui ci sono esplosioni il povero e qui c'è alvida lei è meravigliosa lei è perfetta lei è proprio è nata per fare alvida è veramente cioè è veramente una bella ragazza anzi adesso arriva a dire una cosa che potrebbe addirittura sembrare sessista e non lo è metto le mani avanti perché alvida all'interno del manga è brutta è proprio è proprio brutta ma non perché brutta perché grassa Oda la fa proprio brutta lei invece è proprio bella è proprio un bel viso una bella dei bei lineamenti e nonostante tutto dà quell'idea di essere pirata la vedo è alvida punto ci sta ci sta bello 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 prende e anche leva l'arrembaggio insieme ai suoi ta 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 eccola qua arriva vedi è anche qui guardate rimetto un attimo indietro scusate adesso riparte la palla di cannone e lei c'è la mazza anche qui il dettaglio incredibile è impressionante vedete guardate il mazzone la mazza di alvida eccola qua patapam identica uguale è lei la vedi è lei è lei è lei è lei qui c'è una parte interessante che ci permette di iniziare a raccontare cose che tenete conto quello che sto dicendo cose che triggereranno tantissimo i fan di one piece i cambiamenti rispetto all'opera originale di Yoda è notte in questa scena Rufy ha rubato la nave di Buggy questa è la nave di Buggy e adesso vediamo che ci saranno anche ecco qua ci sono queste cose rosse questi segnali nel buio e adesso vediamo chiaramente che escono anche Nami e Zoro e come si vedrà dopo loro si ritroveranno all'interno di un tendone all'interno di un tendone del circo di Buggy io penso che per esigenze narrative e poi ne parleremo ancora di più in un specifico dopo in una scena ben precisa tutta la parte della città distrutta da Buggy tutta la parte del cannone tutta la parte di Shushu tutta la parte del vecchio tutta la parte del cane erano tutta tolta e quindi qui troveranno un escamotage per arrivare direttamente a Buggy e al tendone del circo di Buggy altro dettaglio vediamo se lo notate voi io leggo io bevo un attimo io bevo un attimo vediamo se notate il dettaglio che ho notato io cosa c'è dentro questa cassa del governo mondiale eh qua cominciamo a faggiare veramente le teorie su One Piece che cos'è cosa ci sarà mai lì dentro lo scopriremo solo vedendo non lo sappiamo una mappa il One Piece direttamente capiamo vedremo nella cassa c'è la sceneggiatura della stagione 2 questa mi sembra abbastanza probabile ah questa è una delle scene più belle di tutto il trailer di tutto One Piece in assoluto eccola qua paro paro identico uguale questo lo prendi se vuoi te lo tatui a fuoco qui insomma hanno giocato facile con i nostri sentimenti sul serio questa tra l'altro come bandiera è anche molto più bella secondo me rispetto a quella che poi gli fa Usop naturalmente però il fatto che abbiano voluto mantenere questa gag di nuovo significa che quantomeno i compiti a casa in questo caso lo hanno fatto ecco magari non è un prodotto uno a uno però insomma ci sta tantissimo Rufy che si bulla siamo insomma i pirati di cappello di paglia guardate lei è meravigliosa comunque lei che si studia le carte nautiche con l'aria anche abbastanza altezzosa lo sta guardando malissimo studia si mette anche lì in quella posizione alto locata con questa camera che dal basso verso l'alto la inquadra con questa espressione di ma te che cazzo vuoi meravigliosa 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 Rufy che qui dice ne siamo i pirati di cappello di paglia e loro che li guardano basiti F4 date un'occhiata ve lo dico già adesso ai capelli ai capelli di Nami di Emily Rudd perché poi c'è una cosa che secondo me non torna e di cui ne parleremo tra poco quindi al parruccone Rufy che insomma si bulla ancora bla 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 basato sul leggendario manga di Aichiroda primo contribuente del Giappone ormai naturalmente interessantissimo anche questo ricordatevi questa scena è la Going Merry che sta scappando da una nave e dopo la nave si vede e ve la faccio vedere che nave è guardate loro quanto sono quanto sono luminosi qui c'è veramente tutto il vibes di One Piece su dei cosplay su dei cosplayer forse sì saranno dei cani a recitare lo scopriremo fra un mese però questi pochi frame la sensazione di avere a che fare con One Piece almeno dal mio punto di vista ma metto anch'io le mani avanti lo dico essendo di parte ci sono ci sono ci sono tutte Nami qui sta disegnando la carta del mondo esattamente come questa non l'ho preso ma ve l'avrei dovuto far vedere ma non fa niente ve l'ho andata a recuperare da solo nel volume 2 di One Piece lei racconta come è strutturato il mondo di One Piece c'è l'immagine di lei che dice c'è il polo nord il polo sud c'è la Grand Line c'è la Red Line e si vede la mappa qui chiaramente la mappa non te la possono far vedere allora c'è lei che lo disegna interessantissimo e qui c'è forse una delle poche cose che non mi piace di questo trailer perché hanno ripreso questa immagine del teaser con il parruccone su Emily Rudd che è totalmente diverso perché anche in questo trailer si vede rispetto a tutti gli altri frame di Emily Rudd cioè se voi andate a vedere le immagini che abbiamo visto prima e le comparate con le immagini di dopo lei non c'ha questo parruccone quindi delle due l'una o nelle altre immagini totalmente renderizzate meglio per cui si nota meno o hanno cambiato parrucca come dite in chat oppure questa è una delle immagini che in realtà poi sono state rigirate dopo perché magari Oda ha detto questa roba non mi piace anche il colore è totalmente diverso esatto ma anche di questo lo scopriremo solo il 31 però io vedo questa immagine e rido ha detto mia moglie noi donne abbiamo capelli diversi tutti i giorni questa era la giornata in cui i capelli di Nami stavano male questa è la risposta di mia moglie andiamo avanti questa è una delle cose che più proprio mi hanno fatto spippettare è una cosa semplice però mi è piaciuto un sacco nonostante nonostante diciamo la scena vista al rallentatore denoti diciamo un po' di pochezza tecnica ecco guardate qua insomma nel rendering del momento guardate si vede che abbiamo a che fare proprio con dei poligoni tridimensionali neanche così tanto ben renderizzati insomma guardate questa immagine non è proprio il massimo però scusate torno indietro così la rivediamo per bene c'è tutto il cuore di One Piece e questo è il momento in cui la nave di Zef fa naufragio quindi qui abbiamo già recuperato il piccolo Sanji Zef insomma sta già col piccolo Sanji a un certo punto poi la loro nave proprio nel manga è identica questa scena ci sono proprio le onde che si mangiano la nave dei cuochi di Zef e l'hanno riproposta sì sì questa è la nave di Zef e l'hanno riproposta vedete no c'è c'è il cappellino da cuoco c'è la bottiglia è la nave di Zef questa e questo è il momento in cui fa un naufragio e che porterà poi Zef e Sanji su quello scoglio che speriamo di vedere anche all'interno ecco di questa roba qui per vedere quel flashback che rimane uno dei più belli di tutto One Piece ci troviamo all'interno del caravan servaglio di Buggy come dicevo prima secondo me la città non ci sta ah qui io qui io qui sono proprio venuto sono proprio venuto anche qui non voglio allora qua bisogna essere onesti intellettualmente secondo me perché da un lato la spada di Mioc con 20.000 lire il mio propettaro di fiducia probabilmente la faceva meglio sembra una spada sembra proprio la spada giocattolo del mio pop di Mioc che ho di là sembra una spada di plastica e però sapete perché è un Garbez è un Garbez sapete perché nonostante tutto e poi va detto è questa è una poveracciata è una spada di plastica è una spada di plastica e nonostante sia una spada di plastica quest'inquadratura mi mi esalta beh voi dovete guardare Zoro dietro guardate Zoro dietro l'avete guardato Zoro dietro cosa sta facendo Zoro dietro se non l'avete guardato eccolo qua questo è il momento è esattamente questo momento qui è Zoro dietro che si sta sta cominciando a fare vedete guardate sta così e Mioc ha appena sfoderato lo spadone è questo momento qui è la spada di plastica che cosa volete che vi dica la spada è di plastica lo so che la spada è di plastica e non riesco a volerli male anche se la spada è di plastica perché il momento è quello è il momento topico dello scontro tra Zoro e Mioc ragazzi io perché questa live non deve durare tre ore ma su ogni frame cioè tu puoi andare a prendere il manga su ogni frame puoi andare a prendere il manga e compararlo vedete Mioc che stringe allora scusatemi qui dobbiamo farci un esame di coscienza per il semplice motivo che io mi ricordo la gente che ha gridato allo scandalo per Buggy dicendo che era cringe dicendo che i personaggi di One Piece sono grotteschi e lo capisco ma credo che questa sia la cosa più inquietante che si sia vista finora all'interno di questo live action Mary cioè si lo so che voi adesso state pensando a curo le lame di curo ma chi se ne frega di curo non me frega minimamente nulla di curo guardate l'inquietudine di Mary riproposto uno a uno la gente si lamenta di Arlong per me la cosa più spaventosa di tutte le live action è lui io non pensavo che avrebbero avuto l'ardire di fare la pecora all'interno delle live action invece l'hanno fatto e quindi vecchio cuore meraviglioso tra l'altro non hanno avuto il coraggio in questa live action di mostrarci curo in faccia lo vediamo ecco con quest'aura mista nightmare from the elm street questa roba qui e funziona in realtà funziona perché ti da proprio anche qui le vibes le vibes di un qualcosa che non funziona qui però e di nuovo bisogna essere onesti invece mi da l'impressione di essere renderizzato una chiavica tanto ecco quelle parti esterne al log town secondo me funzionavano molto bene e non ti davano l'impressione di avere quel green screen che c'è qui invece il green screen si vede tutto cioè sembrano proprio piatti finti non so se riuscite a vedere dai vostri schermi io ce l'ho a schermo grande però se magari lo mettete a schermo grande qui hai proprio un'immagine statica che è proprio brutta esatto non c'è la minima idea di profondità è proprio una cosa piatta messa lì speriamo che poi la facciano meglio Rufy si guarda intorno è sempre Rufy è sempre felice ecco questa è la scena di cui parlavamo prima c'è Zoro che è all'interno rinchiuso in questo pozzo guarda la luna capiamo interessante qui è sempre qui è sempre Zoro qui sono all'interno del Baratì nell'inizio di Sekiro e qui di nuovo c'è il caravan serraglio di Baghi che è tanta roba lui è meraviglioso io sul serio alcune cose non le capisco tenendo conto del discorso che abbiamo fatto prima ovvero che One Piece di base è una baracconata per cui se vuoi fare la riproposizione uno a uno devi fare la baracconata per forza e la devi fare al meglio delle tue possibilità le persone che in quel primo teaser si erano lamentate di Baghi quando Baghi deve essere così perché Baghi è inquietante cioè se io vedessi Baghi io avrei paura di Baghi non è il pagliaccio che fa sorire è inquietantissimo io vedo questa roba qui e io mi esalto è Baghi è lui è veramente bellissimo e soprattutto è proprio il Baghi degli inizi cioè andatevelo a rivedere il Baghi degli inizi com'era è proprio così scarno essenziale minimalista con i pugnali è proprio così tanto è vero che non ce li ho qui come a Londra li ho a Napoli il primissimo pupazzo di Baghi era esattamente così con lui con con il pugno con i quattro pugnali che gli uscivano dalle dita qui combattono sono tutti contenti viva e viva anche qui qui vediamo un pochino di CGI di Baghi che si spezzetta e poteva essere fatto meglio sì potevamo aspettarci di peggio probabilmente sì cioè qua si vede che l'attore che fa Baghi è statico gli hanno messo le cose verdi in green screen e poi gli hanno fatto tutto però funziona poi noi lo stiamo vedendo anche a velocità minima eppure potevano fatti peggio cioè da quel teaser sembrava peggio questo va detto invece guardandolo anche proprio al rallentatore si vede come tutto sommato questi effetti funzionino funzionino poi io non so quali sono le aspettative delle persone quando si approcciano di nuovo a questi prodotti uno la sospensione e l'incredulità deve sempre avere nel bene o nel male però in realtà i poteri di Baghi da questo punto di vista funzionano qui abbiamo una bella prospettiva della nave di Garp che sta sparando cannonate eccolo qua tra l'altro c'era Baghi lì alla polena si guardano vedono che in questo momento stanno venendo bombardati da tutto e dal contrario di tutto qui c'è un Rufi che si sta scontrando con Capitan Kuro chissà veramente per quale motivo Capitan Kuro in faccia non l'hanno mostrato hanno mostrato quasi tutti lui è l'unico villain insieme un altro di cui la faccia non si vede anche se dell'altro la faccia si intravede lei è sempre bellissima ecco qui ci fermiamo anzi mi fermo a un altro frame c'è Sanji che sta prendendo a calci eccolo qua qua ci fermiamo Kurobi Kurobi Krik non c'è mi sembra palese questa cosa qui hanno inserito subito hanno inserito subito un Edgar T mi sembra chiarissima questa cosa qui per via del fatto che originariamente dovevano essere se non ricordo male 12 puntate ridotte a 8 per esigenza di budget Krik nel Krik nel casting c'è ok però che allora avranno fatto qualche cambiamento io pensavo che non ci sarebbe stato vabbè quindi lo prendo da voi perfetto sarà interessante allora vedere questa cosa qui a meno che non arriva Krik non lo accoppa direttamente Miok ma questo lo scopriremo il fatto è che il combattimento che si svolge nel Baratì non è con Krik è proprio metà con gli uomini pesce quindi o loro sono venuti e si sono andati a riprendere Nami e poi loro andranno a riprendersi Nami oppure lo scopriremo chi lo sa rimane il fatto che ancora una volta guardate qui il dettaglio non so se riuscite a vedere Kurobi è fatto molto bene è perfetto è lui è proprio quello che vedi all'interno del manga e non è cringe e qui c'è il simbolo dei pirati del sole Sanji rimane basito F4 non se l'aspettava qui siamo a Darlon Park tra l'altro qui guardate quanto sono stati stronzi non so se riuscite a capire loro due chi sono sono Nojiko e Genzo esatto si vedono lì sono a Darlon Park quindi stanno stanno chiacchierando sono stati stronzi perché non ce li hanno fatti vedere in faccia e io li avrei voluti vedere quello era il momento in cui Zoro e Sanji battibeccavano e qui c'è già un momento che ho visto criticato quando invece questa roba qui è l'abc di qualsiasi live action tratto da un manga o da un anime sono fatti tutti così quindi anche Kenshin è fatto così quindi lamentarsi che One Piece è fatto così secondo me è arrivato a un certo punto momento corda ci lamentiamo un po' del nulla c'è Zoro che dà la spadata io sono sono rimasto favorevolmente colpito dal sangue non me l'aspettavo Sanji nel frattempo dietro sta calciando questo è un altro momento Zoro che sta combattendo contro un altro uomo pesce che arriva e arriva Sanji e gli dà il colpo funziona non funziona vi dirò la verità non mi dispiace ho visto di peggio personalmente ho visto di peggio tra l'altro poi le persone che ecco si sono lamentate della scenografia di Arlong Park non hanno capito un cazzo e qui devo diventare gigante già lo sono di mio ma scusate Arlong Park il nome già ti dice che è un parco è un parco di divertimenti è parco di divertimenti personali di Arlong cioè te lo dice il manga il manga ci tiene a ribadirti che Arlong Park è stato fatto così perché doveva essere la copia del parco di divertimenti di Sabaudi te lo dice il manga Arlong vi ricordate Arlong e Hachi e Kurobi e Pchou che sono bambini che 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 arrivano in superficie guardano strabiliati le luci e lo rifanno anche loro lo fanno come se fosse perché così è anche nel manga con le lucine le cose le insegne lo fanno come se fosse un parco di divertimenti brutto ma come cazzo lo dovevano fare non è che lo dovevano fare come come un parco di divertimenti da 10 euro ma veramente cioè queste sono quelle piccole cose no io non devo difendere One Piece io devo difendere le cose come stanno all'interno della storia e poi ascolto cose che veramente non stanno né in cielo né in terra cioè il fatto che sia così dozzinale è perché è un parco di divertimenti Arlong Park cioè è Gardaland la gente dice che questa roba sembra Gardaland non ha capito che è Gardaland mannaggia la morte io mi sento scemo quando devo raccontare queste cose perché poi sono scritte nel manga te le racconta Oda in tutte le salse però andiamo avanti lei sempre sempre vedete lei non c'ha quella parrucca così rossa in queste scene in quell'altra sì però va bene lui 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 è già innamorato lui è già proprio con gli occhi a cuore cioè lui è proprio bravo con un'espressione fa Sanji l'espressione incazzata è Sanji incazzato l'espressione sorridente è Sanji sorridente cioè qua proprio visto Nami c'ha proprio gli occhi a cuoricino ma che cazzo gli vuoi dire a quest'attore è veramente molto bravo anche qui roba presa proprio paro paro dal manga al momento in cui si stanno studiando dove arrivare e come arrivare Usop che fa il coglione il 31 agosto lo vedremo ah guardate qua qua c'è la Going Merry che va e qui c'è una cosa secondo me meravigliosa la nave che Garp stava bombardando è la Going Merry è la Going Merry sono curiosissimo di questa roba qui sono veramente curioso di vedere come ci incastrano diciamo così questo incontro primigenio con Garp nel manga c'è ma è dopo è nel volume 45 quando dopo Water 7 e Dennis Lobby quando loro se ne stanno per andare e c'è Garp che li comincia a cannoneggiare perché c'è anche Aokiji e dal dalla marina gli hanno detto oh ecco il cazzo che è tuo nipote e te sei un viciammiraglio della marina cannoneggialo allora gli X gli comincia a cannoneggiarlo qui sarà interessante vedere come mettono insieme questa storia qui chi lo sa boh avrà che fare qualcosa con Kobe chi lo sa chi lo sa chi lo sa lo scopriremo solo vivendo ecco no per tante cose si possono criticare a One Piece all'Evection prima ancora di vederlo io guardo una scenografia del genere e mi rendo conto che l'amore ce l'hanno messo perché qui non hai a che fare con roba in 3D qui sono set veri dal vivo cioè a grandezza naturale l'abbiamo visti li abbiamo visti la la Mary a grandezza naturale la la il Baratì a grandezza naturale tutta la parte qui a grandezza naturale quindi bravi 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 l'amore c'è i soldi no ma quello i soldi ci saranno se la gente lo vedrà come al solito come tutte le cose di Netflix qui stanno chiaramente al Baratì sono tutti contenti questa scena è da pugnettoni incredibile perché nel manga è identica di loro che stanno andando in città e sono tutti e quattro camminando qui lei fantastico guarda l'espressione della Rad che guarda il la tomba di Belmer cioè lei è Nami anche qui lei è veramente Nami lei è veramente Nami con i mandarini esatto e poi anche qua c'è c'è una cosa criticatissima quando invece di nuovo dal mio punto di vista meglio di così Arlong non si poteva far è lui è perfetto soprattutto se teniamo conto del fatto come ha detto anche Marco Ferraris 88 Ferro io sono d'accordo con quello che ha detto lui se fossimo stati dieci anni fa avremmo avuto solamente l'attore nero così pitturato di blu il problema è che di nuovo noi non siamo abituati proprio fattualmente cioè dal nostro punto di vista fisionomicamente parlando voglio affrontare con voi questo discorso noi non siamo abituati a vedere queste fisionomie nel nostro mondo è come vedere un alieno è ovvio che se vedi un alieno la prima cosa che fai può avere anche tutte le migliori intenzioni del mondo è avere un senso di repulsione noi non siamo abituati a questa fisionomia qui è un mostro è un uomo pesce e quindi capisco le persone che a una prima occhiata sì questo ecco questo momento filo qui si vede proprio il filo ecco queste sono quelle cose ne parli un attimo bene il momento dopo dici eh però qua è fatto veramente una mezza chiavica tant'è vero che qui sembra momento Jason Momoa in Zack Snyder's Justice League ci manca solo l'acqua che esce sembra quella roba lì cioè sembra proprio questa roba qui no questa questa inquadratura così tra l'altro pure noi l'abbiamo messa in slow in stop motion però ti rifai subito dopo i denti perfetti è lui i denti seghettati da squalo il vero pesce sega il vero pesce sega è lui meglio di così non si poteva fa come lo vuole i farlong è ovvio che la prima volta che lo guardi nel trailer dici oddio che cazzo è questa roba qui poi ti abitui lo compari e dici e beh è fatto bene è fatto bene loro sono basiti F4 tra l'altro Usop meraviglioso qui c'è un'altra di quelle cose che sarà molto interessante vedere come hanno collimato perché noi sappiamo chiaramente che Nami non c'è nel momento in cui Rufy incontra Zoro e quindi lo scontro contro Morgan mano d'ascia Nami non c'è però si sono già incontrati quindi sarà interessante vederlo anche qui già mi dà meno impressione di avere a che fare con un qualcosa di estremamente dozzinale come magari poteva essere il teaser che abbiamo visto la gente è mezza morta a terra qua è Zoro che è stato malmenato da Mioc ecco questo è uno di quei momenti che a guardarlo adesso invece mi dà l'idea proprio di potevate farlo meglio lo spadone in CGI qui è proprio brutto meglio la spada de plastica di Mioc da questo punto di vista dietro c'è di nuovo questa piattezza che non dà profondità di campo per cui qui parliamo di immagine grottesca perché è proprio brutta dal punto di vista dell'inquadratura e dal tutto non è naturale come invece può sembrare quello che abbiamo visto prima mentre invece qua funziona c'è questo trailer e qui va detto è un'altalena sali e scendi un attimo c'è una cosa bellissima l'attimo dopo fa schifo il momento della distruzione di Arlong Park è fatto bene è meraviglioso ci credi che qua è Arlong Park che sta crollando dopo il colpo di Rufy ci credi è fatto bene così come e qui guardate i dettagli ci credi che è Nami che sta vedendo il suo villaggio che è stato distrutto da Arlong e guardate qua non so se è riuscito a vedere c'è anche la chiazza di sangue del tipo che è stato sfracellato da Arlong ve lo ricordate? Arlong a un certo punto prende il primo tipo lo sfracella contro il contro il palazzo e poi gli distrugge la città perché non hanno pagato il tributo è perfetto questo però ci sono altre scene che insomma capiamo bastone e carota sul serio qui perdonatemi qui hanno fatto questa era meglio se non la spoileravano secondo me perché qua è il manga avrei voluto non vederla questa avrei voluto non vederla qui è proprio lei qui qui è proprio lei tanto è vero che questa scena qui è proprio lei qui è proprio lei è proprio lei questa scena l'hanno rigirata perché l'avevano mandata Oda lui non era convinto e gli hanno fatto uno screening privato solo per lui quando hanno rifatto il reshooting di questa scena per avere l'ok da lui per avere l'ok da lui è perfetta è perfetta cioè vedi questa scena ti vengono i brividi arrivo a dire più che nel manga vedi almeno io ce lo vedo si vede proprio tutto il dolore di Nami che lei riesce a metterci e lei che si inginocchia qua è dopo qua è dopo questa scena in realtà e lei che piange qui siamo di nuovo invece nel campo dell'accettabile lo scontro tra Rufy e Arlong Arlong che è tutto contento Rufy che sta tutto incazzato potentissimo anche qui vabbè qua capitolo a parte Shanks io mi immagino già la scena di Shanks che fa così arriva Lucky Lou e spara al Masnadiero bastone e carota anche qui perché dopo ci sono delle scene di Shanks che secondo me funzionano alla grande è Shanks lo vedi qui ho una perplessità mia un po' troppo stagionato l'attore ci sarebbe voluto qualcuno di più giovincello secondo me magari con un po' più di barba la parrucca un po' stona però vedremo 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 se l'avessero tenuto più giovincello secondo me ci sarebbe stato però è forse una delle poche critiche molto personali e soggettive che gli faccio qua c'è Usopp potentissimo qua siamo a Darlon Park qui c'è una delle scene che già avevamo visto Mioc è Mioc Mioc è lui Mioc è lui e io mi sono anche incazzato perché il re del biker raft ma ce lo poteva far sapere che stava dentro a a sto cazzo di live action e giustamente lui ha firmato le carte e non ce lo poteva dire che avrebbe fatto Mioc però è lui chiaramente è il re del biker raft è Gabriele Bertoloni è Mioc è lui è proprio fatto bene gli hanno messo chiaramente le lentine con gli occhi di falco fantastico no per carità RZ PX87 c'è l'età mia però ci sarebbe voluto qualcuno forse di meno stagionato ho detto che è vecchio ho detto stagionato e anche qui guarda che bello si stavano scontrando ecco qui per esempio vedi Shanks e lui la parrucca non gli sta male quindi forse quell'immagine non ritornerà qua abbiamo la scena di lui che si mangia il braccio vedete messa off screen chiaramente però qui se l'è mangiato Sanji che si picchia ancora con questi uomini pesce a Gardaland che è Arlon Park Arlon che continua a picchiarsi e qui funziona secondo me funziona tanto Rufy che va con i suoi colpi e anche Messi con i fermi immagine non stonano non sono brutti poteva essere meglio poteva essere meglio sicuramente però funziona funziona va bene ci sta ci sta alla grande sempre Arlong che ci piace ormai tantissimo è proprio potentissimo e poi qui ecco qua no qui ci sta invece alla grande questo Shanks cioè è proprio quell'inquadratura che ha qualcosa che non lo so non mi sconfinfera ma non vi so dire c'è qualcosa che non va invece qui hai proprio insomma la scena non so se questa ce l'ho forse si eccola qua eccola qua abbiamo proprio la scena madre il passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova generazione che anche nel capitolo 1088 abbiamo visto ed è una scena praticamente uno a uno praticamente uno a uno anche qui c'era una scena di Rufy che si tirava il guanciotto e qui è tanta roba quando ho visto per la prima volta il trailer io mi sono focalizzato quasi solo esclusivamente sul polsino di questo personaggio e cercando di capire perché non capivo ma che cazzo di polsino è questo ma l'ho già visto questo polsino ah ma è il polsino dei marines poi sono andato avanti non capivo poi dopo ho capito è Morgan mano d'ascia chiaramente solo che l'ascia è lì in secondo piano e io come un deficiente vedendolo da cellulare non mi era accorto di questa cosa Morgan mano d'ascia che tra l'altro eccola qua si vede non dico proprio benissimo però si vede in questo poster fatto probabilmente con un'intelligenza artificiale quindi non dei migliori ecco questa è una di quelle cose che sarebbero avrebbero potuto migliorare però potrebbe anche starci bene lo vedremo nel complesso qui di nuovo Rufy che utilizza i suoi colpi qua Rufy che sta per distruggere Arlon Park come abbiamo visto prima lui sulla polena come sempre funziona alla grande c'era l'innami che stava studiando le carte e questa è una scena incredibile incredibile come nel manga tra l'altro qui si vede Nami che si è pugnalata Nami che si è pugnalata qua proprio è centrato nel territorio degli omini pesce con la testa impagliata proprio cose assurde qui ti dà proprio il vibes del dello scontro finale dello scontro finale del telefilm lui incazzatissimo qua dice diventerò re dei pirati sono contento eccetera eccetera mi fa ridere che c'è un action figure di Rufy all'interno del naso del teschio del Jolly Roger di Rufy cioè questo non è Inaki Godoy questo è un action figure di Rufy normale è un pop di Rufy mi fa ridere questa cosa però va bene ci sta anche il logo secondo me è molto bellino tutto sommato e poi vi volevo far vedere un'altra cosa proprio alla fine dove si sono proprio dati alla pazza gioia con il fanservice più sfrenato a parte il fatto che naturalmente qui ci sono Kobe e Rufy che stanno guardando le taglie e quindi vedi la taglia di Alvida qui vedi una taglia che non si sa di chi è qua c'è la taglia di Cavendish follia totale mettere Cavendish con questo attore che va bene non si sa chi è anche qui l'intelligenza artificiale Nino D'Angelo vero Nino D'Angelo qui c'è Foxy chiaramente e poi dopo c'è anche Bellamy però quello ancora una volta che mi ha colpito ed era una cosa che in molti avevano criticato è ancora una volta al grado di fedeltà ve lo voglio far vedere cioè io rimango impressionato in realtà da questo dal grado di fedeltà dell'ambiente circostante quindi il fatto che tu sei all'interno di una cittadina del genere avere quel tipo di quartier generale della marina ci sta perché è esattamente quello dopodiché anche lo stesso Kobe è meraviglioso è proprio lui è proprio lui è anche proprio molto bellino lui tant'è vero che semmai qualora questa serie continuerà non lo sappiamo lui come eroe della marina fra due tre anni è perfetto gli togli gli occhiali gli metti la bandana lo vesti in maniera più tamarra è meraviglioso è veramente meraviglioso e che cazzo gli vuoi dire una cosa del genere per il momento parliamo del trailer poi quando uscirà la serie tv vedremo se è bella oppure no e qui chissà quale pirata qua un pirata chissà chi cazzo è e qui poi c'è Bellamy con la sua taglia da 500 milioni di Barry e Rufy che dice ma dove sta la faccia mia io non la vedo tanti 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 easter egg tante cose che funzionano tante cose che 55 milioni tante cose che funzionano meno tante cose che ancora da questo trailer secondo me devono essere sistemate e speriamo le sistemine in fretta però la sensazione nel vedere questo trailer dal mio punto di vista chiaramente è che abbiamo di fronte quantomeno a un prodotto che sulla carta ad oggi sembra essere onesto sulla carta ad oggi sembra essere una trasposizione fedele al manga di One Piece con tutti i problemi i distinguo e le noie del caso di cui abbiamo parlato non sempre essere fedeli al 100% e questo va detto può corrispondere a un prodotto di qualità lo dice lo stesso Ichiro Oda basti pensare a quella ciofeca di Watchmen di Zack Snyder che è veramente una cosa allucinante e terrificante proprio perché è uno a uno col fumetto tranne il finale e io sono curioso ragazzi io con questo trailer ecco mi sono gasato mi sono gasato perché sono di parte non ho problemi a dirlo però proprio perché e non ho voluto fare non ho voluto fare in parte però proprio perché sul serio ognuna di queste inquadrature è perfettamente sovrapponibile a quello che vedi all'interno del manga possiamo sperare di avere quantomeno un prodotto godibile dopodiché manca un mese fra un mese lo vedremo lo analizzeremo chiaramente ne parleremo e come ho sempre detto se sarà bello sarà bello se sarà brutto sarà brutto e non avremo problemi nel dire sarà bello sarà bello sarà brutto sarà brutto bene popolo spero che il contenuto di oggi abbia dato un attimo un senso a questa live action adesso magari lo taglio per non far piangere quelli che non stavano su youtube lo metto su youtube così sono pure contenti e così ci monigrabbo due volte noi ci vediamo lunedì su twitch alle 21 con il re per il dip e tutte le sere alle 21 qui su twitch e su youtube insomma quasi tutti i giorni quando esce un video mi mando un bacio e ciao viva il monigrabbi quando monigrabbare un'arte ma bisogna saperlo fare e io modestamente so farlo un bacio ciao ciao